troviamo ancora nei giochi guardate qui chi vuole giocare c'è una cabina apposita nella ora vi faccio vedere l'altra molte cabine così attenzione guardate qui attenzione stai assieme da l'altra attenzione stai assieme attenzione 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 Ora vi faccio vedere quest'altro gioco, un po' di rinunzione, a quando fare mi si mettono delle carte da gioco sul tavolo, e adesso vi faccio partire di casa. Un po' di rinunzione, un po' di rinunzione, una nuova, non lo so comunque della situazione. Grazie a tutti.